Grazie a tutti. Benissimo, allora tra 30 secondi iniziamo allora. Va benissimo. Grazie a tutti. Buongiorno e grazie a tutti i colleghi per la loro presenza oggi, grazie ai colleghi collegati da remoto. Ringrazio in particolare i nostri ospiti di oggi, il professor Antonio Sebastiano, direttore scientifico del Master Universitario in Management dell'RSA, e il professor Roberto Pigni, docente presso lo stesso Master. Prosegue oggi il nostro lavoro sulle residenze sanitarie assistenziali. Ricorderete che lo scorso 11 febbraio abbiamo ascoltato a questo proposito Amnesty International. L'incontro di oggi è particolarmente interessante in quanto il libero istituto universitario Carlo Cattaneo, l'IUC, rivolge una particolare attenzione al tema delle residenze sanitarie assistenziali attraverso l'attività di un osservatorio. Ascolteremo quindi con grande interesse quello che i nostri ospiti e interlocutori vorranno dirci. L'andamento della seduta sarà quello consueto. Vi sarà una relazione del professor Sebastiano e un intervento del professor Pigni. Per l'osservazione dei colleghi che vorranno prendere la parola. E infine le repliche. Prima di proseguire la solida nota di servizio. Informo che senza l'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha dato preventivamente di riconoscere il proprio assenso. Se non vi sono altre osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il proseguo dei lavori. Prego, professor Sebastiano, a lei la parola. Non la sentiamo, professore? Mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Perfetto, allora, onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio anche a nome della nostra Università Carlo Catanio Liuc e della nostra Business School alla quale afferriamo per questa opportunità di confronto. Ho portato una presentazione che trae la sua essenza dal lavoro di studio e osservazione sul campo che realizziamo da oltre 15 anni con il nostro osservatorio settoriale sull'RSA a cui dedichiamo un'attenzione molto forte e quindi abbiamo seguito l'evoluzione negli anni di questo settore, più in generale di tutta la filiera dei servizi per la long-term care. Parto con qualche osservazione su quello che era il settore dell'RSA indipendentemente da ciò che abbiamo osservato durante la pandemia. Credo sia molto importante perché aiuta anche a comprendere meglio alcune complessità che poi è stato necessario affrontare durante la pandemia, ma anche alcune grandi sfide che attendono il futuro di questo settore. Innanzitutto quando noi parliamo di RSA, acronimo ormai noto a tutti, ma prima della pandemia purtroppo noto per lo più solo agli addetti a lavori o a chi aveva un proprio congiunto all'interno di queste strutture, non identifichiamo in realtà un universo così nitido. L'RSA in Italia sono un universo estremamente frammentato ed eterogeneo, enormi diversità sotto molteplici punti di vista per dimensioni, quindi coesistono strutture di dimensioni estremamente piccole a strutture di dimensioni enormi. troviamo le più svariate nature giuridiche all'interno del settore che vanno dal mondo pubblico al mondo del privato profit, anche se sicuramente la componente principale, anche numericamente parlando, è ascrivibile a quello del mondo non profit in tutte le sue sfaccettature. Per esempio in regione Lombardia, dove si concentra quasi un terzo dei posti letto RSA di tutta Italia, la fondazione, la forma giuridica più diffusa in assoluto, in altre regioni, sempre nell'ambito del terzo settore, troviamo ad esempio una presenza molto forte del mondo delle cooperative sociali. Ovviamente queste differenze non sono solo formali, ma si riflettono anche nei modelli gestionali e organizzativi adottate da queste strutture. A tutto ciò, e questo probabilmente è l'elemento che rende più unico in tutta Europa il settore delle RSA, si uniscono delle enormi differenze a livello di regolazione regionale. I modelli di accreditamento e comunque le regole di sistema sono definite sulla base di alcune normative di carattere nazionale dalle singole regioni e questo fa sì che da regione a regione noi abbiamo modelli di funzionamento estremamente differenti su temi molto importanti. Banalmente, per citarne alcuni, sulle modalità di accesso. Non in tutte le regioni si accede all'RSA, se ci mettiamo nella prospettiva dell'utenza, allo stesso modo e per gli stessi canali. Abbiamo regioni dove esiste un filtro pubblico che effetta una prima valutazione e regioni in cui l'accesso è diretto senza alcun filtro pubblico. Sono diverse le quote sanitarie, quindi messe a carico dei fondi sanitari regionali, così come sono differenti le regole di definizione della cosiddetta rete alberghiera, cioè la quota di compartecipazione che è a carico dell'utente e della sua famiglia. Quindi sono differenze estremamente significative che fanno sì che lo stesso cittadino, se si dovesse spostare da una regione all'altra, per assurdo, per seguire questo ragionamento, riceverebbe anche degli standard assistenziali diversi e potrebbe avere una compartecipazione alla spesa differente. E poi c'è un grosso elemento di controversa applicazione dei dettami normativi in materia di LEAD, cioè di livelli essenziali di assistenza, secondo cui il costo dell'assistenza fornita in RSA dovrebbe essere al 50% a carico del pubblico in senso ampio, Stato, Regioni e Comuni che spesso compartecipano per gli ospiti non ambienti, e il 50% a carico dell'utenza. Non sempre è così e può capitare che in diverse regioni questo equilibrio del 50% non sia rispettato. E in più, da qui poi capiamo anche tante cose, è un settore su cui abbiamo una discreta carenza di dati certi, proprio a causa di questa frammentarietà e queste differenze regionali. Per cui una cosa che può sembrare, può stupire, non è neanche facile dire esattamente, fare una fotografia puntuale di quante sono le RSA in Italia e posti letto ascrivibili alle RSA in Italia, perché basti pensare che la stessa dizione ufficiale per identificare queste unità di offerta da regione a regione non è nemmeno la stessa. Per cui in questo settore a volte con gli stessi appellativi formali identifichiamo unità di offerta differenti e viceversa. Questo per, diciamo, avere un inquadramento di alcuni degli elementi caratteristici del nostro settore. Per dare un dimensionamento quantitativo di questo settore possiamo fare riferimento all'Istat, all'indagine annuale sui presidi sociosanitari e socioassistenziali che mappa tutte le unità di offerta a carattere residenziale, non solo quelle rivolte agli anziani ma anche ad altri target di utenza. Se ci focalizziamo su quelle rivolte agli anziani, il dato più recente relativo al 2018, a fronte di complessivi oltre 312 mila posti letto, quelli che hanno una valenza sociosanitaria e per cui ascrivibili al mondo delle RSA sono solo 265 mila. Quindi anche quando spesso si è sentito dire, diciamo, a volte anche da fonti ufficiali e istituzionali, piuttosto che a livello mediatico, che i posti letto in RSA in Italia sono intorno a 300 mila, non è esattamente vero perché quelli con effettiva valenza sociosanitaria che identificano il mondo delle RSA arrivano a poco più di 265 mila. Indipendentemente, diciamo, da questa difficoltà a mappare con la massima puntualità il fenomeno, resta evidente, qui vi mostro dei dati Ocse, che l'Italia, tra i principali paesi Ocse, è sicuramente fanalino di coda in termini di dotazione di posti letto in RSA e affini in rapporto alla popolazione anziana. Abbiamo una media al 2017, ultimo anno disponibile nel confronto effettuato dall'Ocse con il report Health at Glance 2019 pubblicato nel 2020, abbiamo 19,2 posti letto ogni mille anziani residenti contro una media di 47,2. Quindi è evidente, diciamo, il gap in sofferenza, in questo caso, del dato italiano. Dato italiano che però poi riflette, come ho accennato prima, delle enormi diversità anche in termini di dotazione da regione a regione, per cui abbiamo regioni dove siamo abbondantemente al di sopra di questo valore, ancorché molto lontani dalla media Ocse, penso alla Lombardia e il Veneto, per citarne alcune, dove siamo intorno ai 28-29 posti letto ogni mille anziani residenti, e regioni del centro, in particolare del sud Italia, dove siamo abbondantemente al di sotto anche della media italiana. In questa slide io vi ho proposto una semplice simulazione, cioè se volessimo mantenere l'attuale livello di dotazione di posti letto RSA che abbiamo oggi in rapporto alla popolazione anziana, di quanto dovrebbe crescere la rete di offerta, tenuto conto dell'evoluzione demografica, che come sappiamo, diciamo, l'Italia è seconda al mondo solo dopo la Giappone, in termini di invicchiamento, e prima in Europa. E vedete le due ipotesi, l'ipotesi in cui manteniamo l'attuale tasso di soli posti letto RSA, che sono 18,6, perché il dato che vi ho mostrato prima prevedeva anche quelli della rete ospedaliera, e l'ipotesi, diciamo, irraggiungibile di allinearci alla media Ocse. Ecco, ma se rimaniamo anche, diciamo, sull'ipotesi di mantenere la stessa capacità di presa in carico che abbiamo oggi in rapporto all'evoluzione della popolazione anziana, già al 2030 o al 2035 dovremmo superare i 300 mila posti, abbondantemente i 300 mila posti letto. Se da un lato è del tutto improbabile che la rete d'offerta riesca a crescere con questa velocità, dall'altro lato però è del tutto evidente che rimanere fermi nello sviluppo del settore potrebbe costituire un enorme problema. Questo anche perché, e qui credo di toccare un tema che è venuto molto fuori dopo la pandemia, cioè il tema della domiciliarità, che a mio avviso in modo errato viene proposta tecnicamente come un'alternativa alla residenzialità nel caso degli anziani fragili. Beh, ebbene, la domiciliarità oggi in Italia è abbastanza sottodimensionata, anche in questo caso siamo fanalino di coda rispetto ai paesi Ocse, ma per darvi dei numeri concreti nel 2019, anno più recente, avevamo una media di 18 ore annue per caso trattato che scendevano a 15 ore annue, come dato medio ovviamente nel caso di un anziano. Quindi sicuramente è necessario un potenziamento della domiciliarità, ma è un potenziamento che non può essere letto a monte come un'alternativa alla residenzialità. E in questo vi do dei dati del nostro osservatorio monitorati negli anni per capire chi sono gli utenti dell'RSA. Gli utenti dell'RSA rappresentano il segmento della popolazione più fragile in assoluto all'interno della filiera della non autosufficienza. Nel RSA, salvo casi residuali, noi oggi, ma questo sia prima del Covid ma anche dopo il Covid, troviamo grandi anziani non autosufficienti con indicatori clinici che si conciliano con una ridotta speranza di vita. L'età media all'ingresso sfiora gli 85 anni di età e questo ci fa anche comprendere, diciamo, che nelle fasce anagrafiche precedenti della popolazione anziana non troviamo l'utenza tipica dell'RSA. Nel 60% quasi dei casi sono ospiti che oltre a limitazioni di tipo funzionale hanno anche problemi nella sfera cognitiva. C'è un peso enorme e crescente dell'Alzheimer e della demenza in generale. Se tanti anni fa si parlava della necessità come poi è stato di creare nuclei Alzheimer, oggi ci troviamo per assurdo. Ho uso un iperbole, una situazione in cui probabilmente, diciamo, sono prevalenti indipendentemente dal loro riconoscimento formale o no i nuclei che ospitano anziani con Alzheimer o demenza rispetto a quelli che non hanno una compromissione così marcata della sfera cognitiva. In condizioni pre-Covid avevamo un tasso di mortalità intorno al 19% con una degenza media degli ospiti deceduti di 775 giorni, quindi parliamo di poco più di due anni e questo valore nel tempo si assottiglia sempre di più addirittura con una mortalità, fatti 100 nuovi ingressi avvenuti in ogni anno, il 5,68% di queste persone decede entro i 30 giorni dell'ingresso e quindi molto probabilmente ci dà anche l'idea che spesso arrivano situazioni in RSA che sono situazioni più, ancorché riguardanti grandi anziani più da hospice che da RSA in senso stretto e non a caso abbiamo un indice di rotazione dei posti letto quasi di 1,4, questo dà l'idea della grande movimentazione e rotazione dei posti letto dovuta a ridursi della degenza media, l'indice di rotazione per intenderci di 1,4 arrotondando ci dice che se un RSA ha 100 posti letto in media ha curato in un anno 140 ospiti quanto al tema mortalità durante il Covid è difficile avere dei dati inequivocabili qui vi ho citato uno studio piuttosto accreditato di Sepulveda pubblicato nel 2020 dove fa delle stime rispetto ad alcuni paesi Ocse confrontando la mortalità degli anziani ogni 100.000 abitanti e la mortalità avvenuta all'interno delle residenze dove si vede ovviamente che nel caso delle residenze poi con livelli più o meno pronunciati c'è stato un livello di mortalità superiore però ripeto è un dato diciamo che a mio avviso come altri che ho visto vanno presi estremamente estremamente con le pinze qui vedete il dato notissimo dell'Istituto Superiore di Sanità la mappatura che aveva fatto tra il primo febbraio e il 30 aprile ma anche in questo caso lo studio è viziato dal fatto che si trattava di un'indagine condotta su base volontaria hanno risposto circa 3.500 RSA e quindi ovviamente restituisce una fotografia di quel campione volontaristico che ha fornito i dati forse è un dato un po' più solido anche se come dire parte da una prospettiva diversa è quello di andare a monitorare cosa che il nostro osservatorio ha fatto durante tutta la pandemia la variazione dei decessi intervenuti nella popolazione anziana dei decessi totali non dei decessi ufficiali da covid nel 2020 comparando questo valore con la media della mortalità avvenuta nella popolazione anziana nei cinque anni precedenti quindi nel 2015-2019 qui vedete una fotografia dove sono rappresentate le regioni più colpite durante la prima ondata e poi il dato italiano in assoluto innanzitutto questi dati confermano come ormai è ampiamente riconosciuto anche dalla comunità scientifica che i decessi con covid e soprattutto durante la prima ondata i dati ufficiali sottostimano ampiamente il numero reale qui porto testimonianze dirette che ho raccolto sul campo in moltissime RSA i primi tamponi che permettevano di fare diagnosi certe si sono viste magari a metà aprile in alcuni casi anche dopo quindi molti dei decessi avvenuti sono decessi con sospetto covid ma senza avere una diagnosi certa ebbene se ci soffermiamo su questo dato che spacca la popolazione degli anziani in tre grandi fasce i giovani anziani dai sessantasei e settantacinque gli oldest old da settantasei e ottantacinque e poi i grandi anziani gli ovvero ottantacinque vediamo se prendiamo il dato italiano che la variazione dei decessi in tutti e tre i segmenti è stata molto alta in più del trenta per cento in tutti e tre in tutti e tre i segmenti ma se andiamo a guardare ad esempio il caso della Lombardia che è stata la regione più colpita in assoluto addirittura osserviamo che la variazione più alta dei decessi addirittura del centoventisei per cento si è avuto nel segmento anagrafico dei settantasei e ottantacinque ora è vero che non tutta la variazione dei decessi è venuta imputabile al covid ma è altrettanto evidente che i numeri reali sono molto più alti di quelli di quelli ufficiali e la variazione dei decessi è stata molto alta anche in quei segmenti di popolazione che non sono utenti dell'RSA ma sono erano sul al proprio domicilio in altri servizi del territorio ma certamente non 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 RSA quindi anche questa idea secondo cui nell'RSA ci sia stato un livello di mortalità più alto di quello che si è osservato al territorio o al domicilio credo non sia stato dimostrato assolutamente in modo univoco e qui apprestandomi a concludere vi porto uno studio che abbiamo fatto sempre durante la prima ondata su un campione di 17 RSA lombarde presenti in 5 province lombarde oltre 2000 posti letto e la cosa interessante però che queste 17 strutture fanno parte di un unico soggetto giuridico ciò significa che queste 17 strutture applicavano indipendentemente dalla loro ubicazione una gestione univoca e centralizzata della pandemia quindi avevano le stesse dotazioni di DPI avevano gli stessi livelli di formazione le stesse procedure e cosa osserviamo? Abbiamo osservato che la mortalità avvenuta in questa struttura in queste strutture nel 2020 comparata a quella dei tre anni precedenti è fortemente correlata alla mortalità che si è osservata negli anziani dei comuni in cui queste strutture erano ubicate nel senso che in RSA avveniva sostanzialmente quello che avveniva anche al di fuori dell'RSA all'interno dello stesso territorio peraltro è molto interessante osservare che mentre in epoca pre-Covid questa correlazione non c'era questa correlazione è presente ed è particolarmente significativa invece durante durante il Covid perché spesso qui lo dico diciamo pur essendo un soggetto super partes rispetto al settore è uscita un'immagine a livello mediatico piuttosto piuttosto ingenerosa delle 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 RSA che ripeto da sempre sono impegnate in prima fila nella cura delle persone delle persone anziane più fragili di quelle persone che ormai non sono salvo ripeto rare eccezioni più gestibili al al domicilio pensate prima vi ho citato il dato delle demenze sono proprio i soggetti anziani con demenza e con disturbi del comportamento quelli che mettono più in ginocchio nuclei familiari anche quando anche quando presenti e chiudo da studioso di economia e management insieme al collega Roberto Pigni chiudo questa riflessione lasciando poi a voi qualsiasi richiesta di approfondimento di confronto ulteriore con un dato che non riguarda l'emergenza sanitaria nell'RSA ma riguarda purtroppo quella che noi già ipotizzavamo a maggio del 2020 quella che si sarebbe tradotta per il settore dell'RSA in un'emergenza economico finanziaria i dati che vi mostro sono dati parziali perché l'indagine è in corso noi da anni monitoriamo i bilanci dell'RSA quindi il loro stato di salute economico finanziario e questi sono i primi bilanci che abbiamo del 2020 quindi l'indagine è tuttora in corso ma cosa osserviamo? osserviamo che nel 2020 è cresciuto enormemente il numero di RSA che chiude il proprio conto economico con un risultato economico complessivo negativo erano solo il 9% nel 2019 sono diventate il 63% nel 2020 ma cosa ancora più preoccupante se andiamo a considerare la sola gestione caratteristica dell'RSA il risultato economico negativo è tale per l'89% del campione e tenete presente che sempre dai dati che stiamo raccogliendo sul campo e dal continuo confronto con i gestori e altri stakeholder che ruotano all'interno del nostro settore il 2021 con ogni probabilità dal punto di vista economico finanziario per molte di queste strutture si chiuderà ancora peggio di quanto si è osservato di quanto si è osservato nel nel 2020 e ovviamente diciamo il complessivo stato di salute economico finanziario di questo settore è un elemento non non trascurabile soprattutto se ricordiamo anche che sono un vaccino occupazionale molto importante soprattutto poi per lavoratori di genere di genere femminile e credo che anche questo tema come dire meriti meriti una certa attenzione e richiamando le enormi diversità regionali che vi citavo all'inizio all'interno del settore si sono viste tutte anche in epoca covid non abbiamo avuto comportamenti uniformi neanche dai regolatori regionali neanche diciamo sul tema sul tema della pandemia e anche sul tema dei ristori all'RSA i singoli sistemi regionali si sono comportati in maniera in maniera abbastanza abbastanza eterogenea quindi è un settore che sta ripartendo con fatica ripeto il l'immagine che ne è uscita dell'RSA a livello mediatico ha una coda lunga su questo settore il fatto che ancora oggi ci siano nel rispetto anche della stessa ordinanza del Ministero della Salute dell'8 maggio 2021 che ha disciplinato in maniera univoca il tema della gestione degli accessi dei parenti dei visitatori queste strutture si sono riaperte ma si sono riaperte nel rispetto di tutta una serie di norme di sicurezza e quindi sono ben lontane dall'essere le strutture aperte che erano in epoca pre-pandemia e anche questo questo fattore ovviamente è un deterrente all'ingresso abbastanza abbastanza forte per cui seppur con situazioni a macchia di leopardo siamo passati in epoca pre-covid in un settore in cui c'era il 99% di occupazione dei posti letto ed enormi liste d'attesa per l'ingresso a una situazione in cui noi stimiamo ma è un dato stimato perché ripeto difficilissimo avere dati ufficiali su questo che tra il 15 e il 20% dei posti letto in questo momento pur con grandi differenze da territorio a territorio non sia attualmente occupato e con un notevole sottigliamento in alcuni casi azzeramento delle liste di attesa dovute all'insieme dei fattori che ho cercato di descrivervi vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione grazie mille c'è un intervento anche del professor Pigni oppure guardi il dottor Pigni ha supporto con me poi nel rispondere alle domande così lasciamo spazio alle vostre richieste perfetto grazie professor Sebastiano ci sono degli interventi allora do subito la parola alla collega Bonino non ce ne sono altri grazie grazie mille ho solo una domanda lei ha detto in chiusura che per mille fattori che possiamo anche immaginare sono diminuite le liste d'attesa anzi diciamo anche la disponibilità dei posti eccetera eccetera ma voi avete una vaga idea presumibilmente dove sono finiti questi signori sono stati mandati a casa secondo voi con allora certo certo la ringrazio onorevole la ringrazio per la domanda che dà magari l'occasione di dire un qualcosa che caratterizzava già il settore della non autosufficienza in Italia professore Sebastiano chiedo scusa se la interrompo pensavo che forse era meglio raccogliere le domande e poi così dopo lei interviene per rispondere a tutti quanti va benissimo grazie chiedo scusa e allora passo la parola alla collega al presidente Binetti la classificazione che voi avete fatto tra chiamiamoli così giovani anziani non tiene ah già grazie e grandi anziani e in un certo senso dà anche ragione della durata del tempo che le persone passano in una RSA perché certamente se come appare evidente entrano a diciamo 84-85 anni l'età media che voi dite di aver raccolto il che ovviamente significa più giovani e più grandi però chiaramente la vita media successiva è di poco più di due anni se invece entrano come spesso accade anche per motivi di solitudine le persone più giovani diciamo intorno agli 80 anni e a volte ancora più giovani se presentano segni di decadimento delle capacità intellettuali anche perché diventano più difficili da gestire all'interno delle famiglie certamente la durata il tempo che trascorrono le RSA si allunga molto e l'altra osservazione è che in genere molto spesso le RSA accolgono ospiti autonomi e poi dopo quando diventano non autonomi oppure quando subenzono difficoltà e complessità non sempre sono disponibili a tenere queste persone e non sempre la qualità dell'assistenza in questa seconda fase è adeguata anche nella percezione che di questo hanno i familiari allora mi chiedevo se in queste RSA che lei ha così attentamente descritto soprattutto anche quelle che appartengono allo stesso gruppo di gestione quindi anche potremmo dire con caratteristiche omogenee mi chiedevo se voi avete visto in questo periodo che la riduzione degli ingressi è una riduzione delle richieste e quindi anche è uno spostamento poi magari nel tempo più avanti finché posso mia madre mio padre li tengo con me faccio per dire ma quando poi li metto in un RSA e già non solo quando lui non può ma quando anch'io ho esaurito una parte delle energie e delle risorse questo sicuramente è un problema ma l'elemento assolutamente sorprendente che lei ha perlomeno per me che lei ci ha dato nella sua relazione in un contesto in cui noi stiamo studiando ragionando riflettendo sul famoso tema della territorializzazione della medicina dello spostamento dei servizi il più possibile a domicilio 15 ore l'anno è così se ho ben capito che è il tempo dedicato a questi pazienti quando noi li consideriamo come dire a domicilio 15 ore l'anno perché è chiaro che se l'assistenza è di 15 ore l'anno i familiari tenderanno ad appoggiarsi sempre di più alle strutture perché non si sentiranno come dire supportati nella presa in carico dei familiari e quindi anche coloro che potrebbero rimanere a casa di fatto è quasi giocoforza metterli in una RSA grazie grazie e passo la parola al collega presidente Iguobi grazie presidente e grazie professore per la sua relazione esotiva molto importante infatti è più che ovvio che senza i dati la politica stessa è fondata su nulla i dati servono anche per poter ragionare prendendo decisioni accurate su diverse problematiche per trovare le soluzioni plausibili la tutela e la salvaguardia delle nostre popolazioni anziane è un obbligo obbligo politico sociale ed economico onde a garantire una vita serena dopo anni di fatica di queste popolazioni quindi io mi limito pur condividendo anche le domande dei miei colleghi a chiedere a lei se credi che l'uniformità delle regole tariffe modalità di accesso riportate nella sua slide ovviamente che mi ha colpito molto a livello nazionale sia decisamente indispensabile anche quando da garantire la la gestione a livello nazionale di questa fascia di popolazione molto importante della società italiana la società umana quindi io mi fermo qua perché ormai veramente i suoi dati mi ha colpito molto è un mondo che non si è mai finito di conoscere ed è importante anche entrarci in merito poi eventualmente chiedo se è possibile lasciarci anche copie di queste slide grazie grazie professor Sebastiano io approfitto di farle una domanda anch'io innanzitutto ringrazio lei il collega Pigni e l'istituto perché veramente ci avete fatto una relazione davvero interessante e parto da delle osservazioni personali poi arrivo a farle la domanda allora noi sappiamo bene come lei ha ricordato che l'Italia è il secondo paese al mondo per popolazione longeva quindi mentre su altri continenti magari il problema può essere più la gestione del futuro dei giovani che sono oltre il 50% della popolazione da noi e la gestione della longevità un pregio italiano diventa un argomento da affrontare con la dovuta cautela sia sul piano sociale che sul piano economico e mi ha colpito vedere le sue analisi sul confronto dei paesi oxe dove l'Olanda ha 76,4 posti letto per abitanti per mili abitanti l'Italia ha 19,2 pur essendo il paese con i più anziani al mondo dopo il Giappone ora è evidente che come dicono spesso all'estero di noi che siamo tutti mammoni insomma probabilmente c'è una funzione di molla della familiarità intesa interpretata nella maniera italiana quindi probabilmente molte persone gestiscono magari anche l'esperienza che forse molti di noi hanno vissuto la longevità all'interno delle mura domestiche poi da comprendere se questo avviene per un atteggiamento di essere resti a mandare fuori gli anziani per un atteggiamento più culturale latino forse che non sulla difficoltà di trovare servizi efficienti e adeguati tuttavia è veramente importante penso che l'attività legislativa che noi svolgiamo quella di programmare il futuro perché noi viviamo questa condizione e noi dobbiamo capire quali saranno le necessità future soprattutto perché chi è anziano oggi ha vissuto e ha goduto di una previdenza che è cambiata e che sta cambiando quindi anche la vecchiaia o la longevità diventa qualcosa che non si deve poter permettere perché il sostegno che avranno avremo già noi chi è attivo nel lavoro ancora adesso non avremo la pensione che ci potrà permettere una longevità serena in casa o con assistenza domiciliare da noi va forse molto di più il modello delle badanti rispetto a quello dell'RSA ma anche l'RSA spesso è un lusso che non tutti si possono poter permettere quindi prevedere gli impatti sociali di questo modello sia sul piano economico ma proprio anche come aspetto dei diritti umani perché noi qui siamo una commissione di diritti umani e io credo che pensare a quali soluzioni dare ai giovani che domani saranno anziani in Italia o anche a quelli che insomma potranno essere meno autosufficienti meno autonomi e questo discorso deve essere legato ad un'analisi attenta per poter prevenire queste problematiche anche perché lei ha fatto alla fine un conto economico diciamo quindi un'attività che comunque prima era positiva per l'80% dei casi chiaramente è andata in deficit in queste condizioni che hanno messo in crisi un po' tutto il sistema economico italiano in tutti gli aspetti quindi sicuramente non è dato rappresentativo però bisognerà pensare a quale sarà l'impatto fra 10-20 anni proprio per garantire il diritto umano anche alla longevità e alla permanenza in vita dignitosa in una condizione che non si possa poter permettere perché cambierà il piano sociale i genitori i figli di 40 anni fa risiedono in Italia i nostri figli magari risiederanno all'estero la capacità di supporto economico sarà differente rispetto a quella dei nostri genitori e di quella dei nostri figli ancora diverso quindi lei che proprio ha la funzione di studio di analisi attraverso il suo osservatorio credo che sarà avrà studiato anche questo tipo di evoluzioni e mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione su questo grazie comunque grazie grazie cerco di rispondere alle vostre domande anche come dire creando dei collegamenti tra i vari quesiti posti perché sono quesiti poi che si richiamano l'uno con l'altro o perlomeno a livello di risposte permettetemi di dire che anche a nome del collega Pini che essere qui oggi oltre ad essere un onore è anche una grande soddisfazione vedere interesse per questo settore a cui diciamo noi ci dedichiamo ma soprattutto fatto di persone che si dedicano danni alla cura dei più fragili è fonte di soddisfazione perché è un settore abbastanza non solo dell'RSM ma in generale di chi si occupa di non autosufficienza assistenza agli anziani un settore abbastanza abbastanza trascurato e non sempre visto diciamo in chiave in chiave prioritaria il primo punto che credo riprenda sia la il quesito posto dall'onorevole Bonino ma anche a seguire è si chiede a dove sono finiti no quegli anziani che oggi non vediamo in lista in lista d'attesa facciamo un passo indietro indipendentemente dal covid in Italia ancora oggi metà del peso della non autosufficienza degli anziani e non solo dall'interno delle famiglie italiane in questa slide che prima ho saltato per questioni di tempo ci dice qual è la percentuale di donne over 50 che esercita un ruolo da caregiver informale e come potete vedere in questo caso invece l'Italia è di sopra della media oxe 63,5% ma comunque fenomeno diciamo abbastanza diffuso sia pur con delle sfumature in tutti in tutti i paesi europei però il dato che colpisce di più è che quando poi però si chiede a caregiver familiari con che frequenza svolgono quel ruolo cioè se è un'assistenza fornita con cadenza giornaliera o frequenza settimanale nel caso dell'Italia l'80% risponde che è un'assistenza informale ma con frequenza giornaliera e questo dà l'idea che molto spesso sono situazioni piuttosto complesse che ricadono all'interno all'interno della famiglia tenete conto che in questi caregiver informali finiscono ad esempio il coniuge il coniuge a sua volta anziano a sua volta con con delle fragilità che assiste l'altro coniuge magari in condizioni di maggior di maggior limitazione per cui il dato da cui dobbiamo partire è questo che metà del peso della non autosufficienza ricade all'interno delle famiglie delle famiglie italiane e questo anche in epoca pre-covid il grande tema e qui mi allaccio molto anche con l'ultimo l'ultimo intervento è che questa disponibilità indipendentemente dall'esprimere un giudizio di merito se sia giusto o no che ciò avvenga questa disponibilità di caregiver familiari già oggi è in fortissima riduzione ma certamente non ce l'avremo non ce l'avremo in futuro la struttura della famiglia italiana si è modificata enormemente qui vedete una comparazione tra il 95 e il 2018 le coppie con figli sono diminuite di oltre di oltre un milione e mezzo sono cresciute di oltre un milione le coppie senza figli sono aumentate di oltre un milione e duecentomila unità le persone ultra sessantenni che vivono sole la struttura della famiglia italiana si è modificata e si sta continuando a modificare che in futuro questa disponibilità di caregiver familiari non ci sarà non ci potrà essere con la stessa intensità odierna e non ci sarà né come apporto diretto all'assistenza né riallacciandomi sempre all'ultimo intervento né come disponibilità in termini di sostegno dal punto di vista dal punto di vista economico tenete conto che già oggi quando un anziano usufruisce di una RSA e diciamo non riesce con la propria pensione e come accade di solito in media intorno al 70% dei casi l'indennità di accompagnamento a coprire integralmente la retta intervengono molto spesso i figli e gli altri componenti componenti della famiglia quindi diciamo c'è anche questa questo tipo questo tipo di funzione per cui quegli anziani che oggi non vediamo in lista d'attesa sono prevalentemente all'interno dei nuclei familiari come lo erano come lo erano in parte in precedenza e teniamo conto di un altro dato che va molto a braccetto con questo che in Italia a fronte di meno di 300.000 posti letto in RSA stimiamo che oltre un milione di badanti di cui e su questo convergiamo un po' tutti gli studiosi del settore circa il 60% peraltro operano in condizioni di irregolarità e tenuto conto che laddove non si tratti di badanti conviventi una stessa badante presta servizio anche a più anziani stimiamo che sia intorno a un milione e duecentomila unità gli anziani che oggi ricevono assistenza tramite una badante le badanti sono evidentemente un pilastro del nostro sistema e singola più alta capacità di presa in carico di anziani fragili si adopera di un passate il mio termine servizio che non è nemmeno così istituzionalizzato e formale teniamo conto che quando parliamo di RSA in senso stretto non di altre forme di residenzioni che non sono RSA ma che spesso come dire finiscono in questo unico grande calderone stiamo parlando di strutture dove ci sono equip multiprofessionali medici infermieri fisioterapisti personale tuterare personale educativo ecco c'è una risposta come dire multidisciplinare di una certa di una certa complessità per cui è trovabile che quelle situazioni che oggi ritardano quello che poteva essere il loro normale ingresso in RSA il peso stia scaricando prevalentemente all'interno all'interno dei nuclei dei nuclei familiari questo è il primo primo dato secondo dato confermo all'onorevole Binetti purtroppo si sono quelle le ore ha capito benissimo sono quelle le ore medie di assistenza ai nadi per caso trattato ovviamente quella è una media non significa che ogni utente riceve quelle ore però è il numero medio di ore questo anche perché poi l'assistenza domiciliare stiamo parlando solo di assistenza domiciliare integrata quindi a valenza sanitaria quel dato non tiene conto per intenderci del SAD del servizio di assistenza domiciliare a valenza non sanitaria erogato dai comuni sì il dato il dato è quello quindi siamo molto lontani da una capacità di presa in carico di situazioni estremamente fragili e complesse come sono quelle che tipicamente troviamo all'interno dell'RSA e sempre quanto diceva l'onorevole rispetto al fatto che magari alcune persone entrano in l'accento e poi magari non trovino una risposta adeguata quando la situazione è peggiori in realtà qui credo che il tema nasca proprio dal fatto che tendiamo a chiamare RSA o case di riposo unità di offerta molto diverse perché nelle strutture che non sono RSA in senso stretto e che possono trovare svariate denominazioni a seconda delle regioni case albergo case di riposo eccetera sono strutture che devono prendersi carico di anziani che conservano un certo livello di autosufficienza e non sono poi pensate per dare una risposta e nemmeno potrebbero darlo perché stanno al di fuori di quel circuito dell'accreditamento sociosanitario una risposta tipica da RSA quindi questo può essere vero in quel tipo di strutture e per cui questo è anche il tema di quanto poi serva che tutti i servizi non solo quelli residenziali della non autosufficienza siano fortemente in rete collegati e collegati tra di loro ma in un RSA in base alla mia esperienza e quello che osservo quotidianamente sul campo sono vocate a prendersi carico delle situazioni delle situazioni più assolutamente più complesse tenete conto che i nostri dati ci dicono che si prendono abbiamo un 5-6% di ospiti con nutrizione artificiale quindi PEG per intenderci Sondino ospiti ventilati cioè ormai c'è una capacità di presa in carico di situazioni estremamente estremamente complesse quindi se parliamo di RSA in senso ufficiale non ritrovo questa dinamica se invece parliamo di altre unità di offerta che RSA non sono è normale che ad un certo punto del percorso della non autosufficienza queste strutture non siano diciamo più la risposta la risposta ideale l'altro dato sul tema dell'uniformità di regolamentazione a livello nazionale credo che avere inserito nel PNRR il tema di una riforma della non autosufficienza sia una conquista culturale enorme peccato non aver inserito diciamo risorse a sufficienza per il potenziamento di questo settore in modo particolare poi su quello della residenzialità sono andate veramente poche risorse e che non sposteranno di molto la situazione che vi ho descritto ma il tema di una riforma della non autosufficienza è una conquista enorme e se ci giochiamo bene questa carta è evidente che ricreare una disciplina nazionale su alcuni temi su alcuni temi fondamentali credo sia assolutamente necessario avere esistono metodi validati già applicati in altri paesi quindi non c'è neanche nulla da inventarsi penso all'interrei quindi avere dei modelli di valutazione univoci su base nazionale del livello di fragilità dell'anziano da assistere a cui poi si aggancia il carico assistenziale quindi lo standard di assistenza da erogare credo che questo debba necessariamente arrivati a quella frammentazione che abbiamo visto oggi questo debba essere un indirizzo univoco su base su base nazionale e quanto al tema del del futuro sì purtroppo il futuro è preoccupante perché effettivamente l'anziano l'anziano di oggi tipicamente l'anziano che è in un RSA ma anche che non sia in un RSA ma che ha assistenza al domicilio da una badante o da qualsiasi altro tipo di risposta è un anziano che tipicamente può contare su una pensione e tendenzialmente ha un'abitazione ha un'abitazione di proprietà e ha comunque in molti casi diciamo più di un figlio all'interno della propria rete familiare se proiettiamo lo scenario da qui a 30 anni c'è sicuramente un tema di minor copertura previdenziale per molti soggetti minor disponibilità di caregiver familiari e in generale una capacità economico-finanziaria probabilmente più bassa per cui diciamo tutte le analisi di scenario di qualsiasi paese Ocse concordano nel ritenere che al di là di alcune situazioni contingenti che si sono accentuate ora rispetto alla pandemia in futuro la pressione sulla rete formale dei servizi per gli anziani di tutta la rete dei servizi sia destinata a crescere e non a diminuire con però la grossa incognita di come si finanzierà questa domanda crescente come si finanzierà il sistema il sistema di risposta per cui diciamo in un ragionamento complessivo di riforma della non autosufficienza il tema economico del finanziamento del sistema è uno dei temi da mettere al centro al centro della della riflessione peraltro come diciamo in altri in altri paesi europei viene viene fatto diciamo che se non muta nulla il sistema non sarà non sarà sicuramente sostenibile spero di essere riuscito diciamo nei tempi a rispondere a tutte a tutte i quesiti che mi avete posto professore assolutamente sì anzi io torno a ringraziare a nome mio personale di tutta la commissione perché è stata veramente una dizione interessantissima seppur ci lasciamo con la risposta finale che è un po' inquietante di un futuro molto incerto credo che sia per noi un impegno uno stimolo ancora maggiore per comprendere quanto anche questo aspetto debba rientrare nell'attività della programmazione dell'aspetto legislativo per poter dare soluzioni per il futuro perché una buona amministrazione compresa quella nazionale deve pensare a dare soluzioni quindi io la ringrazio le richiedo nuovamente l'invio attraverso la nostra segreteria delle documentazioni che sono state veramente interessanti che approfondiremo ancora meglio grazie di essere stati con noi e a lei al professor Pigni grazie grazie a voi grazie dell'opportunità e buon lavoro grazie anche a lei grazie a voi grazie a voi